La palla a nuoto in A1 la quarta giornata che ha visto la Roma a Visnova raggiungere la prima vittoria stagionale al Foro Italico. 13 a 10 il finale, i danni dell'Ortigia con ben 7 giocatori per i padroni di casa andati a segno. Il match è stato per i primi tre tempi in equilibrio con Pappacena in grande evidenza. Poi nel quarto i ragazzi di Ciocchetti hanno spinto sull'acceleratore e sono arrivate le due reti di Gomez che hanno permesso l'allungo finale. La Lazio è stata sconfitta poi in trasferta, 16 a 9 dal Breccia, che sono vicecampioni d'Italia. Grazie.